Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova batteria di domande. Siete pronti? Cominciamo subito con la prima. Cosa si intende per compito autentico? Un compito che simula una situazione reale. Seconda domanda. Il metodo clinico è basato su? Colloquio clinico, osservazione partecipante e storie di vita. Terza domanda. La tavola rotonda è? Una variante del cooperative learning. Quarta domanda. Quali sono le fasi della ricerca? Identificazione del problema, analisi, costruzione del piano sperimentale, applicazione, interpretazione e valutazione. Quinta domanda in inglese. I don't eat, you do. As much as. Bene ragazzi, con questa domanda in inglese per oggi abbiamo finito. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.